Una prestazione di altissimo livello ha permesso sabato alla Masera di superare la titolata Rosta sino ad allora in vetta alla classifica. La squadra rossolana messa in campo dal tecnico Graziano Girlanda non ha lasciato scampo ai torinesi, prendendosi così il nuovo primato. Il solito Carlo Negro non ha lasciato scampo a Silvio Riviera nella combinato individuale. Vittorio 24-20, anche Ivan della Piazza nell'individuale acquisito i due punti contro Sergio T8-13-7. Ai torinesi sono invece andate le altre due partite, la coppia dove Daghero e Frattoni sostituito poi da Paolo Alloro sono stati sconfitti 13-8 e la quadretta composta da Alfredo Bagliasco, Pietro Mariolini, Claudio Ragozza e Stefano Melleglio che non ha retto quella avversaria e ha perso 13-4. Nella parte centrale dell'incontro gli azzurri hanno preso il largo, buona la prova della staffetta con Ortolano e Allora che hanno battuto il tandem di Favaretto e soggetti per 44-42. Entrambe le coppie hanno tirato 55 bocciate nei 5 minuti della prova. Ottimo poi il tiro di precisione di Carlo Negro che ha raggiunto il gran risultato di 27-21 contro Tabone. Infine altri due punti al Masera grazie ad Ortolano che ha superato nel tiro progressivo soggetti 39-36. Quindi prima dell'inizio dell'ultimo turno di partite tradizionali il Masera era saldamente in testa 10-4 a soli due punti dal successo. I due punti sono arrivati subito nel combinato a coppie dove Andrea Mellerio e Paolo Allora hanno superato Volturo e Ballor 37-33. Dopo termina Carlo Negro con un secco 13-0 ancora su Riviera, poi invece sconfitta della Terna 10-0. In fine ultima vittoria con Bagnasco e Ragozza nella coppia. L'incontro dunque è finito 16-6 a favore degli Ossolani che si riprendono dunque il primato in classifica con 9 punti davanti a Rosta, Chiavarese e Calvarese a 8, Benettese a 7 e Nitriaosta a 2. Sabato prossimo quarta giornata delle 6 del secondo girone e Masera è impegnato sui campi della Nitriaosto mentre si svolgerà il derby Ligure tra Chiavarese e Calvarese con Rosta che ospiterà la Benettese. Domenica scorsa si è invece svolta la seconda trasferta dei ragazzi Under 15 a Borgone. La gara individuale era valida come prima selezione individuale ai campionati italiani. I ragazzi Ossolani hanno superato entrambi la pool, poi però purtroppo si sono scontrati la vittoria. Questa volta è andata Stefano Vescio che ha sconfitto Chiodin ma poi a sua volta è stato battuto nella partita recesiva da Matteo Bardella che milita nella Carmagnola. Riguardo l'attività locale segnaliamo il termine delle due gare a coppie. Domani sera con le finali i vincitori delle due prove parteciperanno alla fase finale con le due coppie vincitrici la gara di Romagnano.